Il mondo è troppo grande, mamma. Fallo diventare piccolo. Concentrati sulla mia voce. Fa finta che sia un'isola in mezzo all'oceano. La vedi? La vedo. Mio figlio era sull'autobus. Ha visto quello che ha fatto Clark? Devi tenere segreta questa parte di te. E che cosa dovevo fare? Lasciargli morire? Può darsi. Ho così tante domande. Da dove vengo? Devi decidere che tipo di uomo vuoi diventare da adulto. Chiunque sarà quell'uomo cambierà il mondo. Mio figlio. Chiunque sarà che giocagale. Chiunque sarà che di però loro. Chiunque sarà che di noi. Ma che di noi. E che fareò che di noi. Chiunque sarà che di noi. Mio padre credeva che se il mondo avesse scoperto chi ero, mi avrebbe rifiutato. Era convinto che il mondo non fosse pronto. Tu cosa pensi?